L'ablazione della fibrillazione atriale è stato l'argomento del corso di aggiornamento teorico-pratico organizzato dalla Villa Verde di Taranto in due giornate, presso l'hotel Salina e presso la casa di cura di Via Golfo di Taranto. La due giorni di studi diretta dalla dottora Mariano Rillo, responsabile del servizio di aritmologia clinica ed elettrofisiologia interventistica della casa di cura Villa Verde, ha annoverato la partecipazione della dottora Roberto Mantovan, direttore dell'unità operativa di cardiologia dell'ospedale di Conegliano e della dottora Zefferino Palamà, del servizio di aritmologia clinica della Villa Verde. Il corso si è rivolto agli specialisti cardiologi desiderosi di conoscere i nuovi strumenti che caratterizzano l'ablazione di questa complessa aritmia, i vantaggi del mappaggio 3D, anche attraverso procedure live effettuate nel laboratorio di elettrofisiologia. Un corso che è l'espressione del livello qualitativo che ha raggiunto l'aritmologia della casa di cura Villa Verde, ma credo di poter affermare che è un fiore all'occhiello di tutta la città, perché noi lavoriamo in stretta collaborazione con l'ASL di Taranto e quindi vogliamo condividere questo risultato con tutte le strutture sanitarie che lavorano quotidianamente per la salute dei nostri concittadini, il Santissimo Annunziata in Primis. Noi abbiamo accolto medici che vengono da varie regioni del nostro paese, tutti esperti nel nostro settore che è l'aritmologia. Sono oggi qui per salutare e dare un saluto da parte della direzione sanitaria a tutti i partecipanti, al dottor Rillo, a tutta l'equip dell'aritmologia della casa di cura Villa Verde. Questa aritmia che è l'aritmia più diffusa per quanto riguarda le aritmie cardiache.